Nella notte si è arrivati al sì alla convenzione con il calcio Napoli ma non sono mancate sia gli attacchi dalle opposizioni ma anche qualche malumore all'interno della maggioranza per alcuni aspetti che contiene questa convenzione. Innanzitutto è un grandissimo risultato conclusosi alle due di questa notte. Sappiamo tutti quanto era complessa, tribolata e difficile arrivare a una chiusura della vicenda della convenzione, il rapporto con la società calcio Napoli, la difficile trattativa con il presidente Laurentiis, la delibera di giunta, gli aspetti burocratici, amministrativi, finanziari, amministrativi ed economici. Ci sta una dialettica anche politica non solo tra maggioranza e opposizione ma anche all'interno della stessa maggioranza, è un tema complesso, non è un tema in cui ci sta una verità però posso dire che il risultato di stanotte è molto positivo, si è trovato un punto di equilibrio importante, il comune ne esce assai bene e il calcio Napoli è messo adesso nelle condizioni di poter iniziare la migliore stagione possibile dell'era della Laurentiis perché abbiamo uno stadio completamente ristrutturato grazie all'università di confondi pubblici e una convenzione fresca fresca, quindi da questo punto di vista anche per la stagione che sta per iniziare mettiamo la società nelle condizioni di potersi concentrare sul campionato, sulla Champions e non avere i tanti problemi degli altri anni. Vi ricorderete che gli altri anni di questi tempi si stava là a scommettere, ci possiamo iscrivere alla Champions, giochiamo a Napoli, si gioca a Palermo, si gioca in un'altra città, quindi insomma anche da questo punto di vista credo che quella di stanotte è una giornata importante dove si conferma però che lo stadio è lo stadio della città, è lo stadio del popolo, che il comune va rispettato e che i diritti valgono per tutti. Grazie a tutti.